Ad Arezzo bollette a rate contro il caro energia, questo quanto emerso da un confronto chiesto da Feder Consumatori e CGL a destra che ha raccolto l'invito. Chiara Rubiani, presidente di Feder Consumatori e Alessandro Tracchi, segretario provinciale della CGL, hanno illustrato come si è aumentato il numero di persone che si rivolgono a loro, lamentando la difficoltà a sostenere i costi delle bollette energetiche ed hanno chiesto a destra se potesse in qualche modo intervenire a favore dei clienti in difficoltà. Paola Bati e Monica Casullo, rispettivamente direttore generale e direttrice di Estra, hanno comunicato che Estra ha da subito applicato tutte le agevolazioni previste da Rera per affrontare con ratizzazioni i disagi del mercato, allargando la platea dei beneficiari anche a quelle tipologie che non rientrano nel perimetro definito dall'autorità, come le partite IVA. E' stato infine fissato anche un altro incontro da effettuarsi prima possibile nel corso del quale potranno essere definite le condizioni, i soggetti economici e i privati che potranno accedervi, il periodo di durata delle facilitazioni e le modalità tecnico-operative per ottenere la ratizzazione delle bollette. Positivo anche il commento del nuovo consigliere di amministrazione di Estra, Giovanni Grazzini. E' importante rafforzare la vicinanza ai propri territori, ha detto, e attuare ogni iniziativa possibile per raggiungere questo scopo. Grazie a tutti.